L'Ecco FM è la radio dei lecchesi e del nostro territorio. L'Ecco FM Visual Radio Station, la radio che ascolti, che vedi e che tocchi. L'informazione di L'Ecco FM. Ben ritrovati da Luca Cereda con una nuova edizione di L'Ecco FM News, le notizie di L'Ecco FM. Apriamo il giornale con l'inaugurazione del Ponte di Annone avvenuta oggi sotto gli occhi del presidente regionale Attilio Fontana e del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli. A più di due anni e mezzo dal tragico crollo che costò la vita al civatese Claudio Bertini, la nuova struttura che scavalca la statale 36 è finalmente aperta. Da quel tragico tardo pomeriggio del 28 ottobre 2016, lunga attesa e rimpalli di responsabilità, poi l'avvio dei lavori che su mandato del ministero dei trasporti sono stati appaltati ad ANAS. A fine maggio scorso inizia a prendere forma il nuovo ponte, l'unica campata di acciaio lunga 44 metri, del peso di 250 tonnellate è stato posato e sono stati necessari i 30 giorni per l'allestimento della struttura tramite la realizzazione della sede stradale e delle piste ciclabili, l'installazione dell'impianto di illuminazione, la posa delle barriere laterali e infine il collaudo. Il collaudo è avvenuto proprio la scorsa settimana. 8 camion pesanti 45 tonnellate l'uno hanno stanzionato sulla campata per il test di carico e dopo le necessarie verifiche con apparrucchiature topografiche, la struttura è risultata idonea all'utilizzo. Nel nostro servizio, che trovate sul sito www.lecofm.it e alle 19 in onda anche sulla nostra pagina Facebook, le parole di Attilio Fontana e di Danilo Toninelli, presenti oggi all'inaugurazione. Cambiamo argomento, intanto quello appena trascorso è infatti stato un weekend d'inferno per gli automobilisti che si sono dovuti spostare sul nostro territorio perché il traforo del Monte Barro è stato chiuso in parte nella giornata di sabato fino alle ore 18 di domenica circa, per interventi di messa in sicurezza della volta della galleria a causa della caduta di alcuni calcinacci. La chiusura del Monte Barro ha provocato ancora una volta una vera e propria emergenza sulla viabilità provinciale, con lunghi incolonamenti su diverse strade, provinciali sotto un sole coccente, ha detto il presidente della provincia di Lecco Claudio Usuelli. Si tratta, ha continuato Usuelli, soltanto dell'ultimo episodio in ordine di tempo che ha colpito il nostro territorio. Purtroppo lo stato di fragilità del nostro territorio non ci mette a riparo da un possibile ripetersi di situazioni di questo tipo. Anche questa mattina, in occasione dell'inaugurazione del Ponte di Annone, Usuelli ha ricordato al presidente Fontana e al ministro Toninelli la necessità di avere un occhio di riguardo per la Statale 36, arterie e asse importanti anche per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. E cambiamo ora argomento. La Giunta Comunale ha approvato un documento denominato Decalogo Eventi Green, per promuovere e diffondere buone pratiche finalizzate alla riduzione della produzione di rifiuti e a una loro gestione corretta e sostenibile durante feste e sagre. Un documento che promuove, per quanto riguarda la mobilità, un decalogo che consiglia di favorire spostamenti con mezzi di trasporto pubblici condivisi come il car sharing o green piedi o bicicletta, mentre sul fronte dell'impatto energetico promuove fonti rinnovabili o basso consumo, dai pannelli solari fotovoltaici a riduttori di flusso a lampadine a risparmio energetico oppure LED. D'ora in poi, chiunque effettuerà pratiche in municipio finalizzate alla riduzione di eventi riceverà questo decalogo, spiega l'assessore all'ambiente del comune di Lecco, Alessio Dossi, in chiusura, il meteo. Nonostante le forti raffiche di vento che si sono abbattute su Lecco in queste ultime ore, i vigili del fuoco fortunatamente ci fanno sapere che non ci sono segnalazioni di disagi legati al vento. E continuate a seguire Leccofame in diretta sui nostri canali social per restare sempre aggiornati. Da Luca Cereda è tutto, appuntamento alla prossima edizione di Leccofame News.